Sono Daniela e partecipo alla costruzione del Meeting, promuovendo Meet&Meeting insieme agli amici del mio paese, Guglionesi. È un lavoro che ogni estate ci entusiasma e ci coinvolge, perché ci fa incontrare tante persone cui proviamo a raccontare la bellezza e l'unicità del Meeting. Già così partecipiamo dell'origine, perché il Meeting appunto è incontro. Venendo al Meeting si fa l'esperienza di respirare una simpatia per tutto ciò che è umano, un incontro che abbraccia la propria umanità e la fa esplodere rendendola capace di trovare scintille di umanità in ogni cosa. Per me è importante partecipare alla costruzione del Meeting perché credo sia una manifestazione unica al mondo dove si trovano insieme arte, cultura, sport, politica, scienze, educazione, economia, tanto altro. Il Meeting è un bene per il mondo perché è la possibilità di incontrare volti, luoghi, storie ed esperienze di umanità cambiata che sono segno di speranza e di pace per tutto il mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.